weyla sono marco e facciamo questo ultimo video di questa serie che già che ci siamo facciamo un'analisi completa diciamo di quello che potrebbe succedere su bitcoin che sarà praticamente un riassunto di tutto quello che abbiamo visto negli altri video però sarà anche un'analisi completa per chi lo vuole vedere per motivi di attualità ecco quindi per chi lo guarda adesso ovviamente facciamo un'analisi che può avere un senso da oggi a domani per chi lo guarderà in futuro sarà praticamente un riepilogo di tutto il corso base che abbiamo fatto con tutti i vari capitoli che praticamente abbiamo visto le analisi di un trend i diversi time frame l'analisi volumetrica poi abbiamo visto un po di medie mobili un po di indici eccetera ma allora partiamo vediamo allora ad esempio cosa possiamo fare adesso cosa ci possiamo aspettare adesso quali sono le idee operative adesso allora partiamo ad esempio dal nostro mensile che è il time frame più alto e vediamo che tutto che insomma il trend è palesemente a ribasso no qui abbiamo perso il nostro minimo diciamo a ribasso non c'è nessuno spunto diverso da questo sostanzialmente se noi dobbiamo prendere il mensile quindi direi se perdiamo anche questo minimo andiamo ancora sotto comunque ovviamente il mensile solo un'idea generale come abbiamo detto andiamo a vedere un po il settimanale settimanale vabbè non c'è niente di diverso praticamente qui abbiamo fatto un piccolissimo cioè vedete qui abbiamo fatto un piccolissimo massimo decrescente poi andiamo giù qui non abbiamo fatto non vale neanche perché non abbiamo proprio ripreso neanche la candela cioè sul precedente quindi è solo un continuo scendere sostanzialmente niente di nuovo sotto i ponti andiamo a vedere il giornaliero ed eccoci qua allora adesso che andiamo sul giornaliero facciamo un attimo di analisette in più che insomma è il grafico diciamo base dove si può operare quindi qui abbiamo un palese trend ribassista ovviamente abbiamo fatto questo sputacchio qua di piccolo massimo diciamo decrescente adesso stiamo di nuovo tornando a fare dei minimi quindi già qui se uno non prende neanche le shadow diciamo già in questa zona qua potrebbe già abbozzare con trend following basico un trade short però adesso vediamo più cose ad esempio andando in ordine possiamo vedere ad esempio quali sono i supporti e le resistenze che possiamo trovarci allora non sono molti non sono molti perché anche come come abbiamo visto negli altri video vado un po veloce perché basta guardare gli altri video abbiamo questa zona qua sostanzialmente che ci sta tenendo un attimino su che questa zona altro non è che è diciamo la zona dei top dei top del 2017 se la andiamo a vedere un attimino con la lente di ingrandimento per quel che conta è più un qualcosa secondo me di psicologico anche dire che è la zona dei top comunque vedete questa è la zona dei top qui abbiamo anche all'epoca abbiamo fatto praticamente un retest della zona dei top e siamo crollati quindi ha anche un senso guardarlo in ottica di long term però io direi che al momento ottiene più un po per questioni psicologiche un po perché comunque effettivamente qui c'è stato ci sono stati un po di volumi di scambio volumi di scambio quindi andiamo a vedere i volumi di scambio vediamo se abbiamo delle indicazioni quindi andiamo a prendere il nostro volume profile prendiamolo momentaneamente dall'inizio dell'inizio quindi anche dalla dalla scorsa bull run ma come avevo detto nell'altro video secondo me prenderlo da troppo distante non è che abbia tutto sto senso però vabbè facciamolo così al voluto prendiamo da qui senza esagerare proprio ed ecco che prendendola appunto da qui infatti vedete che già da qui iniziano i volumi iniziano i volumi che ci stanno sostenendo in questa zona di top qui comunque se prendiamo da tempo immemore c'è qualcosa che ci sostiene e in effetti ha fatto il suo perché qui comunque quando siamo crashati poi ci siamo cioè abbiamo fatto delle shadow siamo tentati di rimbalzare adesso siamo ritornati lì vediamo se ci tiene ancora quindi però sostanzialmente sostanzialmente qual è la zona che ha più senso vedere e guardate che differenza di volumi è tutta questa zona di maxi giga accumulazione che se conteniamo in questo trend ribassista è probabile che andiamo se prendiamo poi infatti il tempo le tempistiche un attimino più ravvicinate anche tipo la la seconda accumulazione ripartenza è uguale è uguale è uguale infatti abbiamo qui prendendo delle zone per avvicinate la zona che ci sta tenendo che comunque non era male alla fine anche in senso ravvicinato e poi c'è tutta questa zona qui quindi secondo step che cosa 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 senso di fare adesso sei come siamo in un trend ribassista siccome siamo in un trend ribassista palese anche adesso se ci perde il minimo noi possiamo pensare un'entrata short scritto così scritto vabbè la scriviamo facciamola un po' più carina dai senza le soliti scarabocchie quindi ecco quindi possiamo dire alla perdita o del minimo oppure se uno vuole essere ancora più sicuro diciamo di questo supporto che ci sta tenendo quindi possiamo dire alla perdita di questo livello sostanzialmente che se vedete qui è proprio la fine dei supporti che ci tengono quindi quando arrivi qua sotto iniziano ad esserci vuoti se prendiamo anche un po' più di tempo magari se hanno ancora valenza magari dalla partenza proprio della fine del del buyer market scorso e l'accumulazione siamo lì siamo lì possiamo allungarla fino a che è la stessa roba vedete la stessa identica roba perché comunque qui non siamo mai arrivati quindi non è cambiato niente ecco si può dire che perdendo diciamo questa zona qua se uno vuole sempre lasciare un minimo di di spazio perché ovviamente quando non la perdi non è detto che scendi subito magari fa solo una pesca e poi rimbalza allora uno potrebbe anche dire se perdiamo ecco scendiamo un po' più giù proprio questo questo triangolo verde è inevitabilmente uno short vediamo perso il triangolo verde vuol dire più o meno persi 17.000 anche psicologici teoricamente però vabbè poi cambia relativamente poco lo sicuro che se arriva arriva secondo me cioè probabilmente già arriva se perdiamo già questi minimi qua eh che è che alla fine riprendendo meglio questo triangolo verde vedete è più ha più senso metterlo così circa così che è questa 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 gobetta qua ecco poi cosa possiamo andare a vedere possiamo andare a vedere ad esempio come abbiamo visto un po' le medie mobili come siamo messi con le solite medie mobili che usano tutti prendiamo la 50 e la 200 e sono beh che colore è sta roba vabbè comunque abbiamo già individuati i livelli quindi lo ripuliamo un po' perché più metti roba più non si capisce la sega ah si poi prima magari si può anche per chi non ha ben ben insomma idea del trend può usare il zig zag come ho detto eccolo qua vedete che ci da il trend è palesemente ribassista chiaramente no vedete higher low, higher high, lower low, lower high, lower low e qui il zig zag infatti siamo in zona rossa cioè se uno deve cercare qualcosa è senso che cerchi uno short abbiamo visto lo zig zag è solo un aiuto in più poi possiamo anche usare la trend line no? vi ricordate la trend line? questa è la trend line discendente che abbiamo sul giornaliero che possiamo anche qui vedere dei livelli ad esempio noi abbiamo indicato questo livello rosso come un livello che se si è perso probabilmente andiamo in questa zona qui riprendiamola che non l'ho segnata nei livelli di volume io partirei onestamente da qui dalla fine di questo tipo qui è finito allora al volo eh perché dopo vediamo anche la ciclica no? questo al volo è la conclusione del maxiciclo diciamo dell'alvin precedente poi qui è partito un altro ciclo annuale diciamo che si è concluso qua e poi da qui siamo nella storia recente anche se è durato 2-3 anni fa parte di questo è più qui che qui è partito il maxiciclo però qui è partito un altro ciclo comunque che si è concluso uno può far partire da qui per vedere di più volumi ma visto che c'è stata anche questa anomalia del covid crash io ripartirei dal secondo diciamo annuale di riaccumulo poniamola così ah aspetta ecco anche perché insomma andare a vedere livelli in tanta mona cioè già li andiamo a vedere in tanta mona perché abbiamo perso la struttura qua perché se noi non perdevamo la struttura qua ma ci troviamo a galleggiare da queste parti non aveva neanche senso andare a prendere quei volumi lì no? così distanti li andavi a prendere nella struttura principale che è questa no? se noi ci troviamo ad esempio qui in questa zona qui non andavamo neanche a vedere che cavolo c'era qua sotto no? cioè non aveva senso invece avendo perso anche tutta questa struttura bisogna andare a vedere i livelli indietro come il cucco insomma quindi bom partirei da qui ecco quindi sistemiamo i livelli allora questo è il nostro livello di supporto mettiamo un altro quadratino qua sotto ecco qui è l'inizio diciamo dei nostri livelli che dovrebbero ottenere fino diciamo al POC vedete qui questo alla fine è qua sotto cavoli nonostante abbia preso solo la parte diciamo anche ravvicinata della zona del l'inizio dell'accumulo e ripartenza poi c'è stata anche la anomalia del covid crash cioè il nostro POC teorico e rimane questo a 9000 è qualcosa eh cavoli quindi non è che sia così impossibile andarlo a riprendere ecco adesso cancelliamo questo se no facciamo un sacco di confusione voilà ecco queste sono le nostre aree di attenzione diciamo grosse su time frame più grossi sul giornaliero abbiamo quest'area qui verde che ci sta facendo da supporto che è sostanzialmente l'area che erano i top del 2020 che hanno fatto da barriera psicologica qui era più una barriera psicologica no? superare i 20.000 infatti non riuscivamo a superare i 20.000 vedete qui abbiamo ballato tantissimo poi quando li abbiamo superati che è la classica cosa rifacendo i passaggi tipo dei corsi precedenti la classica cosa che accade quando superi dei massimi storici cosa succede? non ha i punti di riferimento il prezzo non ha più supporti resistenze quello che è e quindi parte infatti qui abbiamo superato dopo tanta dopo un bel diciamo tanta dopo e beh comunque quanto tempo c'è stato qua da quando siamo arrivati in questa zona vediamo dopo beh un mese un mese di tentativi eccetera abbiamo superato finalmente i massimi precedenti e qui siamo partiti come dei missili vedete cioè quando li abbiamo superati non avevamo più barriere sopra la nostra testa e abbiamo fatto un 115% così diretto no? fa capire quando superi dei livelli importanti sia rialzo che ribasso cosa succede? e rifacendo un percorso tipo di ripasso infatti questo ormai si era rivelato un livello importantissimo questa zona qui questa zona qui quando l'abbiamo persa che cosa è successo? siamo cresciati devastantemente e in più se vogliamo anche andare a vedere più su anche la zona qui dei 40k vedete che avevamo tenuto in questa tipo quella che poi alla fine era una bull flag cioè nel senso un classico rimbalzino anche se insomma più nel lungo termine diciamo il settimanale però poi si è rivelata un niente di fatto perché non abbiamo mai fatto dei massimi decenti eccetera vabbè comunque andiamo più veloci se no il video diventa lunghissimo questo è un ripasso se dobbiamo riprendere tutti i concetti di altri video allora sto qua cinque ore praticamente a fare il video quindi abbiamo questi due livelli dati dai volumi come supporti no? poi abbiamo il trend ribassista quindi andiamo a cercare il short andiamo vediamo questi due livelli quindi se è rotto questo livello se è rotto questo minimo senza guardarlo il grafico pulito andiamo a cercare lo short andiamo a cercare magari un po' più giù perché deve rompere il livello di supporto qual è la nostra area di attenzione? questa dove ci sono i massimi volumi che va tipo l'area che va dai 12.000 fino ai 9.000 che poi dovrebbe tenere a cavolo se non tiene neanche i 9.000 il mercato è andato già così è un disastro poi cosa possiamo vedere? vediamo magari con degli indicatori tipo il canale che magari ci può aiutare a vedere un attimo com'è la situazione proviamo allora il canale ad esempio ci indica che siamo nella middle line diciamo del canale quindi secondo un'indicazione del trend molto ribassista che stiamo avendo un'idea che potrebbe andare ad esempio a toccare la base ci sta tutta se mettiamo 10 luglio siamo alla base quindi vediamo facciamo una linea che ti fa vedere dove come tempistiche ecco qua una linea verde ad esempio mettiamola verde ecco e qui ci sono le tempistiche secondo cui puoi andare a pigliare la base se uno vuole seguire ad esempio questo canale discendente e ha ancora il bias ribassista no? mettiamolo quindi ad esempio se andiamo subito diretti verso giù verso la base ad esempio il 13 luglio ad esempio qui il 13 luglio la prendiamo per dire possiamo fare una cosa del genere tempistiche ecco vedi le tempistiche e adesso quindi noi abbiamo anche dal canale un'idea quando è che magari potremo andarci se adesso non abbiamo neanche forza per superare la middle line che infatti ci sta facendo diciamo anche se non mi piace dire queste cose con delle linee ci sta facendo più o meno da resistenza supporto no? se adesso noi facciamo un'altra sciacquonata no? facciamo tipo una cosa del genere ecco mettiamolo più grosso mettiamolo verde così si capisce noi abbiamo più o meno una tempistica il 15 luglio che arriviamo in questa zona qui mettiamo anche qui un altro quadratino ecco fino al 21 luglio vedete più o meno e si incastra anche con i livelli di prezzo con i livelli per ora dopo che vediamo di tempo perché se ci arriviamo subito diciamo all'11 nella base della trend line tra l'11 luglio dovremo raggiungere tipo l'11 luglio magari i 12k se magari è ancora più ribassista ci sta che continuiamo magari o crashiamo all'ultimo minuto possiamo anche arrivare fino al 20 luglio alla base e si parla di 9k 9.6k disastro che poi tra l'altro questo canale è stato tracciato ma guardate le shadow le shadow sono andate anche sempre più giù quindi può anche darsi che magari ci arrivi anche prima il prezzo per carità ma con il classico crash flash crash e poi magari rimbalza su per dire una roba del genere che ad esempio adesso non teniamo crashiamo così quindi facciamo la 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 lo se vabbè ho fatto che andiamo troppo giù facciamo un attimo un disegno più 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 umano perché se no si capisce la sega ecco magari adesso facciamo così poi facciamo una candelona della madonna una candelona della madonna poi facciamo così e poi rimbalziamo qua da queste parti e poi magari si riparte si spera si spera poi magari appunto continuiamo facciamo così e riandiamo al middle del canale per fine luglio ipotesi sono ipotesi comunque mai i canali non piacciono tanto quindi torniamo a noi comunque lasciamo questa roba qui e togliamo il canale che ci da adesso ci da anche più più il grafico è pasticciato più un casino comunque abbiamo un'idea che in effetti la base del canale è da queste parti e si sposa anche con i livelli no? quindi adesso togliamo il canale andiamo a prendere magari altri indicatori che abbiamo visto vediamo se abbiamo qualcosa qua che ci dice alla fine il macd non l'abbiamo visto l'altra volta ma più o meno è come un RSI dai solo che c'è anche le due medie mobili interne ecco quindi vabbè teniamo il nostro RSI che è sufficiente che l'abbiamo già vista c'è qualcosa che ci dice RSI non so qualche divergenza qualcosa che ci indica qualcosa niente di che sappiamo solo che qui praticamente abbiamo fatto un bel minimo però abbiamo fatto un rimbalzo ma sta ritornando giù quindi non abbiamo neanche indicazioni l'unica indicazione che abbiamo del RSI è per quel contrarian no? qual'era il contrarian che ora ovviamente siamo in ritardo che se uno vuole agire prima no? ricordate siamo in trend ribassista e questo lo facciamo in rosso ritrendi bassista siamo arrivati qui e iniziamo a fare questo mossa no? allora se uno vuole anticipare invece che dire vado short qua voglio trovare un punto più carino dove shortare magari dovrebbe vedere la RSI se inizia a fare un rimbalzo decente però e quindi magari bisognerebbe andarlo a vedere su un timeframe minore perché quindi i rimbalzi decenti non ce ne sono stati qui magari sì però in realtà uno dovrebbe andare a vedere se va in questa zona chiaro che se va in questa zona sul giornaliero è cambiato completamente il trend c'è qualcosa che non va bisogna andarlo a vedere su timeframe più bassi quindi mettiamo prima questa cosa qua andiamo a vedere su timeframe più bassi se abbiamo avuto qualche occasione di ragionare sotto questi termini e alla fine qui l'abbiamo avuta qui e ormai non c'è più qui guardate siamo talmente deboli che non siamo neanche riusciti ad andare neanche un secondo in iper in ipercomprato siamo proprio deboli 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 sul due ore magari neanche sul due ore che poi ovviamente più scende di timeframe più è inutile ecco qui vedete abbiamo fatto sull'orario con questa con questa sparata senza senso un attimo di ipercomprato però vabbè se scendiamo sull'orario dopo le cose iniziano a mettersi un po' a caso ecco mettiamola così quindi abbiamo questi due livelli di prezzo e con il canale possiamo immaginare anche una sorta di livello di tempo abbiamo detto che qui se arriva prima o qui se ci arriva un attimino dopo alla fine comunque questo è il quadrato di attenzione e adesso andiamo dalla parte ciclica come siamo messi con la parte ciclica togliamo qualcosa se no non si capisce più una sega non abbiamo indicazioni già abbiamo questa indicazione che è la divergenza bull ma qui si sta seguendo semplicemente il prezzo sappiamo che l'RSI è super scarica cioè nel senso che è iper venduta ma continua a esserlo da un po' ricordate che quando siamo in bull market magari l'RSI è sempre ipercomprata da navita cioè sempre carica navita poi quando siamo in bear market magari anche per navita è iper venduta e no non conta niente non conta niente ecco quindi abbiamo trovato i nostri livelli di prezzo ma con come livelli di tempo è meglio fare un'analisi ciclica allora cosa abbiamo detto nell'altro video senza rifare tutto il grafico ciclico che qui probabilmente era partito mensile allora qui siamo sul grafico normale sul grafico normale e alle volte i bisettimanali che sono sul grafico diciamo del CMI perché toglie tutti i fine settimana eccetera praticamente è come se un bisettimanale del CMI sarebbe una sorta di mensile nostro infatti se andiamo a prendere il CMI eccolo qua che abbiamo fatto ieri e poi l'avevo cancellato tutto e non l'ho più aggiornato fantastico vabbè comunque qui vedete come tempistiche guardate qui è iniziato sicuramente il mensile qui siamo a 35 barre e qui eravamo a 23 bisettimanale no il problema è che quando uno spende il grafico normale infatti ultimamente tanti si pigliano delle cantonate perché invece i tempi sono completamente dilatati vedete qui siamo a 37 barre 37 barre sarebbe un mensile per il grafico normale diciamo che sul CMI quando vedi un mensile sostanzialmente è quasi il doppio del tempo perché ad esempio prendendo qualsiasi mensile qui tipo questo che è la partenza che è bellissimo vedete che si vede che alla fine è tutto un movimento ed è una sorta di mensile però se lo vai a prendere nel grafico normale viene una sbordellata di giorni e non avrebbe senso è per questo che io faccio i giornali sul CMI perché è più pulito qui probabilmente se vogliamo scomporre vedete che dove lo scomponi il mensile probabilmente si è chiuso qui quindi è più un bisettimanale per il CMI è più un bisettimanale no vabbè piccola parentesi che dopo si fa confusione bla 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 quindi guardiamo magari con i giorni come se fossero i giorni normali qua però io consiglio sulla ciclica di andare sul CMI ecco perché gli toglie il rumore del il rumore del del fin di settimana che non succede niente che non ci sono istituzionali e non ci sono movimenti comunque se guardiamo il grafico normale qui diciamo che il bisettimanale sarebbe come un mensile no? quindi qui cosa c'è? siamo praticamente agli sgoccioli sta finendo tutta una struttura di ribasso ma qui comunque è partito è partito da poco un mensile se prendiamo la la struttura normale oppure è partito comunque un altro settimanale come minimo e si sta già vincolando a ribasso quindi se poniamo che che qui diciamo è partito un mensile prendiamo il range di data e che mediamente ti dura almeno un 30 giorni dove andiamo? 20 30 30 30 giorni siamo a 18 luglio media media di un mensile no? e vedete che i tempi si incastrano quindi fra quanto circa potremmo continuare a ribasso e andare in questa zona circa fra 30 giorni se invece prendiamo i tempi del CMI che sono un attimino per me più accurati qui abbiamo detto dall'ultimo video proprio dall'ultimo che probabilmente qui è partito un mensile poi qui c'è stato la chiusura del primo settimanale capirsi da qui è partito un altro settimanale che si è chiuso qui e poi è partito un altro settimanale che probabilmente si è chiuso con questa candelona rossa e adesso siamo in un altro settimanale no? che se facciamo vedete 11 11 11 guardate che roba 11 11 11 arriva dove? il 18 luglio quindi andiamo a prendere il grafico normale e invece con le tempistiche un attimino messe meglio del CMI arriviamo al 18 luglio dov'è il 18 luglio? il 18 luglio è fra in giorni puliti fra 16 giorni no aspetta no si fra 16 giorni esatto più o meno siamo lì perché se prendevamo da le tempistiche da qui ecco 30 è la stessa roba vedete però è un po' più sporco è un po' più sporco da vedere anche perché 30 è la media potrebbe durare anche di più o di meno però qui invece si vede meglio si vede meglio che quindi abbiamo un sacco di cose che si incastrano che guarda caso tutte insieme ci portano a tutte insieme a questa zona qua questo quadrato qua e queste tempistiche qua invece di fare lo scarabocchio così rotondo ci portano ci portano come tempistiche verso metà luglio ad andare in questo eh ma ce la farò a fare un disegno decente o no facciamo una facciamo il quadrato così un quadrato sul quadrato ecco rosso perché stiamo andando giù ecco cancelliamo lo scarabocchio quindi abbiamo più view che si incastrano tutte insieme che ci poi queste sono analisi statistiche con vari mezzi con varie prospettive con vari livelli con tempo eccetera ma la sostanza qual è che non non è una sfera magica però uno statisticamente parlando può pensare che visto come siamo messi visto il forte trend ribassista visto dove sono i maggiori volumi che ci tengono non sono questi ma sono questi qua sotto visto che non abbiamo ancora che abbiamo un canale discendente e se siamo così ribassisti è probabile che andiamo a ritoccare il touch della base del canale discendente e si trova qui visto che ciclicamente dovrebbe mancare un'altra settimana per chiudere questo ciclo una settimana del CMI che diciamo sono due settimane sul grafico normale no 16 bar 16 giorni e tutte le tempistiche si allineano per questa zona di attenzione quindi se io dovessi fare la previsione potrei dire che probabilmente abbiamo ancora molte probabilità del prezzo attuale di andare giù di un altro fantastico almeno 37% disastro come anche 50 in quanto tempo lo sapremo fra pochissimo purtroppo chiaro che poi questa è l'analisi su questo grafico su questa tendenza e tutto queste cose poi cicliche livelli di prezzo crash eccetera poi dipendono sempre da cosa cosa da partire se uno vuole fare un'analisi più a monte dovrebbe partire guardando il dollaro come è messo il dollaro perché se il dollaro va su bitcoin dollaro come tutte le cose se il dollaro è troppo forte e tutte le cose scendono ovviamente no perché sono denominate in dollari il dollaro è forte alla faccia se è forte guardate che roba e guardate se facciamo una veloce tempistica anche sui sulla ciclica del dollaro qui è iniziato un mensile qui è solo un bisettimanale fa i 40 giorni e questa poi oltretutto anche come diciamo analisi boh tecnica delle figure questa è un caponendol guardate che è famosa come figura quando fa un massimo poi fa un un tentativo doppio massimo e poi c'è la tazza no? questa è una figura molto rialzista super rialzista cioè che poi quando rompe qua parte a rialzo come se non ci fosse un domani chiaramente se questo parte a rialzo come non ci fosse un domani bitcoin scende a ribasso come se non ci fosse un domani ovviamente poi assieme a questo uno dovrebbe vedere invece lo standard and poor per dire com'è messo standard and poor è messo uguale anche lui cioè nel senso è ribassista no? vedete ribassista le tempistiche anche qui guarda caso ma va come dire guarda caso ma va è quello il punto di guardare assieme quindi sono identiche perchè più o meno abbiamo fatto iniziato il mensile qua primo settimanale poi abbiamo chiuso il secondo settimanale siamo al terzo settimanale queste cose avevo già scritte prima infatti guardate abbiamo probabilmente chiuso qua il terzo settimanale qua c'è una prima candela verde che però bisogna vedere dove va perchè ora manca cosa? probabilmente manca il quarto settimanale dove finisce il quarto settimanale? finisce 15 luglio non siamo tanti distanti come tempistiche no? beh allora vediamo il nasdaq il nasdaq è ancora più correlato dello standard and poor perchè il nasdaq è sui titoli tecnologici e bitcoin dovrebbe neanche se protezione o interfrazione eccetera ultimamente si è visto che è super correlato in realtà di più al nasdaq che alla standard and poor ma siamo la vicini perchè qual è la centratura del nasdaq è che qui probabilmente è iniziato il mensile ha fatto il primo settimanale ha fatto il secondo settimanale ha fatto il terzo settimanale e di nuovo è la centratura la stessa deve fare il quarto ecco deve fare il quarto settimanale no? siamo sempre lì siamo sempre lì e in più quando ti parte il mensile se il mensile è partito qua qui ad esempio se il mensile è partito qua può essersi chiuso qua il mensile che ha 19 barre eh no è troppo presto ma si è già vincolato al ribasso si è già vincolato al ribasso quindi se dopo deve andare a chiudere il mensile cioè quanto meno dovrebbe fare un doppio minimo no? perché quanto meno ma molto più probabilmente un altro un altro un altro fondo stessa cosa qui stessa cosa qui qui è partito il settimanale è il mensile può essersi chiuso qua il mensile no? 19 barre è troppo presto si è già vincolato al ribasso quindi di nuovo come minimo dovrebbe fare un doppio minimo ma molto più probabilmente farà un nuovo sciacquone guardiamole l'inverso del dollaro il dollaro no? qui è iniziato qui il mensile del dollaro no? è l'inverso guardiamo i top questo giro quindi qui 23 barre è troppo poco che poi comunque magari questo è veramente il massimo no? troppo poco questo è un bisettimanale no? e si è già vincolato a rialzo no? quindi adesso che ti fa questa roba qui è più probabile che scenda o che salga è più probabile che come minimo faccia un doppio massimo come minimo no? ma è molto più probabile visto il tempo che ci manca e la forza che ha e vista anche la struttura ad esempio di come immagine che abbiamo detto del capolendol visto che ci manca ancora un po' è molto più probabile che vada to the moon che che rompa la struttura e faccia il top del top che quello che è il top tra l'altro che dovrebbe essere il top non solo dell'annuale ma anche del biennale no? stiamo cercando questo top qua se è un top di un biennale non è capito che ti fa lo sputacchio top ti fa una bomba no? è che sta già andando a rialzo come se non ci fosse domani ma figurati se fanno l'ultima leg up rialzista di quelle potenti e vedete come si sposa tutto quanto si sposa tutto quanto sulla stessa view una view che purtroppo che purtroppo ci da ulteriori e gravi ribassi che poi ovviamente cosa possa essere cioè non è che è scritta ad esempio cosa può essere può essere che noi abbiamo già esagerato col ribasso perché se andiamo a vedere ad esempio quello che ha fatto il nasdaq o lo standard non hanno fatto questi tipi di sciacquoni può anche darsi quella sarebbe una botta di culo che noi qui abbiamo già raggiunto una struttura esagerata ci abbiamo anticipato un po' i tempi con l'esagerazione e allora magari invece che andare proprio a fare lo sciacquone finale anche se gli altri scendono tanto noi riusciamo a tenere a fare uno spike e teniamo questa struttura però se io dovessi bettarci ci scommetterei poco è possibile certo che è possibile perché quello che è successo qui se vedete è quello che è successo qui quando abbiamo chiuso l'annuale qui cioè quando abbiamo fatto lo sciacquone qui qui eravamo distantini dai tempisti della chiusura dell'annuale o comunque però alla fine abbiamo già fatto talmente tanto ribasso che poi per mesi non siamo andati da nessuna parte e poi qui abbiamo chiuso e siamo ripartiti però la realtà è che abbiamo solo perso tempo perché avevamo già esagerato in un'unica leg down ribassista il movimento quindi se siamo fortunati può anche darsi che anche se ci sono ulteriori ribassi del mercato noi abbiamo già raggiunto un estremo di ribasso talmente alto che non scendiamo ancora più però è più una speranza che una probabilità più alta perché non c'è nessun dato che ci dice questo perché qui anche come volumi come canale come tempi come struttura ribassista e come qualsiasi cosa purtroppo purtroppo ci indica con una freccia grande come una casa questo quadrato qua cioè ce lo sta proprio è come un faro e dice guardate tempo pochissimo e siamo qui e sarebbe un bel disastro perché comunque il punto è quello non è che ci sono delle previsioni che dicono sì ma bitcoin va a 15.000 fozi prezzi a caso che ne so può darsi tutto è possibile non è che sono cose scritte nella pietra ma tipo bitcoin a 15.000 che cavolo c'è qua cioè non c'è nessun tipo di struttura qua non c'è niente non neanche un massimo siamo nel vuoto no bitcoin 15.000 nel vuoto ci fermiamo nel vuoto ok perché 15 cioè non è che i prezzi fanno non so 21 20 19 18 17 vanno dove trovano la liquidità dove trovano le strutture se non c'è niente come abbiamo visto qua quando siamo crollati da qui qui non c'era quasi niente c'era quasi niente fino a qui praticamente e infatti siamo crollati di brutto stessa roba può succedere se noi perdiamo qua dico perde tempo e vinciamo perché con questa struttura magari ci supporta e ci tiene ma di questa struttura deve supportarci se noi la perdiamo così non ci supporta niente non è che facciamo 15 perché 15 o facciamo questa zona qua o abbiamo culo e rimaniamo qui due sono le cose cioè 15 buh cioè non credo cioè poi ci si è sempre una cosa da stupirci se fossero tutte le cose sicure al 100% saremmo tutti ricchi no? sfondati anche però questo è quanto quindi io purtroppo mi aspetto magari non a fondo qua in fondo però almeno un touch della zona alta di questi di questi volumi qui che ci hanno cioè che sono il massimo accumulazione del passato visto come siamo messi ci sta ci sta quindi è probabile che per metà mese prossimo andiamo verso la zona 12k vabbè quindi questa è la conclusione di tutto un percorso e chi lo vede oggi è anche un'idea operativa e diciamo che per questo video è tutto ci sentiamo alla prossima ciao 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 ciao